L'11 settembre 2001 è una data che avrei preferito non vivere, non assistere a quello che è accaduto. Una data veramente tragica. Io quel giorno stavo in ufficio a Monte Carlo e entrò un mio collaboratore e mi disse accendi subito la televisione e vidi questo attacco alle torri gemelle, gli aerei che si schiantavano, le persone che si lanciavano dalle finestre non avendo via di scampo. La prima reazione che ebbi fu quella di correre alla scuola internazionale dove andavano i miei figli, li andai a recuperare e li portai a casa perché poteva accadere di tutto, non solo in America, era una visaglia veramente terribile quella. Tra l'altro il 2001 era il primo anno in cui organizzavo il mio festival del cinema e lo avremmo dovuto fare di lì a poche settimane. Chiamai Mario Monicelli e gli dissi che facciamo e insieme concordammo di non annullarla e ci fu la prima edizione, fu la nostra risposta che la vita deve andare avanti anche quando ci sono momenti tragici come quelli.